volevo leggere questa roba qua di jensen wang che è il ceo di nvidia che ha detto che non dobbiamo più insegnare l'informatica ai bambini perché tanto c'è lei ai che fa che fa l'informatica che scrive software al posto nostro cosa dice diego dopo microsoft loves linux ora microsoft loves seo esatto esatto ecco vado vado allora aspetta che vi metto a posto la chat qua su ok allora jensen wang che dice che dice un po allora scusa giupino l'ho ancora visto il tuo video è quindi ho visto che l'hai fatto è uscito mi è uscito nel feed ma non l'ho non l'ho ancora visto al recente world government summit in dubai il ceo di nvidia jensen wang ha detto una cosa controintuitiva su quello che pensa sia una lunga tradizione di ok ha detto una cosa controintuitiva contro una lunga tradizione di ceo di big tech che invece danno come consiglio ai giovani di imparare a scrivere codice peraltro pure le istituzioni stanno dicendo ai giovani di imparare a scrivere codice facciamo informatica nelle scuole e lo facciamo non come vi insegno l'informatica in generale come secondo me che bisognerebbe fare ma come ti insegno a programmare che non sono sicuro che sia l'approccio corretto marino dici aspetta che non vedo un cazzo non insegniamo matematica perché esistono calcolatrici è un po potrebbe un po un po questo è un po questo no ma il fatto che secondo me vabbè leggiamo cosa dice wang ha detto che anche se al momento siamo nei primi passi insomma della rivoluzione della rivoluzione dell'intelligenza artificiale programmare non è più una skill vitale posto che la fosse pure prima una skill vitale comunque non lo è più quindi siccome lei ai può occuparsi di scrivere codice gli esseri umani possono invece concentrarsi su skill su esperienze più di valore come la biologia l'educazione la manifattura il farming quindi l'agricoltura e vabbè però cosa c'entrano con la programmazione con l'informatica o queste robe non lo so in parte che voglio leggere anche cosa ha scritto Dario Basangio che lo seguo anche lui è una mia fonte anche lui però su su mastodon lo seguo non ha quindi ha detto che dobbiamo smettere di insegnare i bambini a scrivere codice ha detto che l'avvento dell'AI dice che possiamo possiamo rimpiazzare il linguaggio di programmazione con i prompt l'AI ucciderà il codice non credo eh non la non la penso proprio così nel segmento che in questo video che si vede che immagino che sarà quello che hai trasmesso te Giuseppe il CEO di Nvidia ha detto che per 10-15 anni tutte le persone che sedevano in questi forum insistevano che fosse vitale per i bambini per i giovani imparare l'informatica per imparare come scrivere software come programmare il computer ma in realtà è esattamente l'opposto ora dice Wang ciao intanto Simone e il nostro lavoro è creare con tecnologia computazionale in modo che nessuno debba programmare debba scrivere codice e che il linguaggio di programmazione sia l'umano ha detto Jensen Wang tutti nel mondo sono nuovo sono sono ora programmatori tutti nel mondo ora sono programmatori questo è il miracolo dell'intelligenza artificiale mi permetto di far notare però che il signor Jensen Wang è il CEO dell'azienda che ha beneficiato più di tutte dell'arrivo dell'intelligenza artificiale quindi lui sta dicendo non servono più programmatori perché ci sono io che con la mia aziendona da triliardi di paper dollari vi porto la programmazione a livello che comunque anche la casalinga di voghera può scrivere con tutto rispetto per la casalinga di voghera Giuseppe in soldoni dice solo quello non servirà a imparare coding perché ci penserà mamma invidia a rendere tutti i programmatori esatto ci penseranno loro con fior fior di server e di h100 h200 e h300 che però dovremmo pagare quindi non dovremmo più pagare i programmatori ma dovremmo pagare loro posto che poi sia un ci guadagniamo in questo cioè costa di più tenere in piedi la batteria di server di nvidia come costo generale e non solo economico costo anche ambientale sociale eccetera ottenere in piedi una batteria di programmatori umani anche questo potrebbe essere da considerare ma non mi sembra che lui sia la persona più imparziale da affrontare questo discorso no quindi dice poi l'articolo dopo questo dopo questa esternazione contro intuitiva contro intuitiva il co di nvidia ha detto che le persone potrebbero imparare le skill per diventare esperti in altri campi utili dove immagino però nvidia non abbia non abbia ecco cavalli in corsa quindi esperti in domini tipo la biologia l'educazione la manifattura l'agricoltura e così via per risparmiare tempo ma non ha senso questa roba cioè dice che tutto il tempo che la gente ha usato per imparare a programmare poteva essere speso in compiti più interessanti come per esempio imparare l'agricoltura cioè datevi all'agricoltura insomma siete voi programmatori siete braccia rubata all'agricoltura perché tanto la programmazione la può fare l'aii dice simone chi usa wordpress per non pagare un programmatore potrà usare allo stesso modo l'intelligenza artificiale per far da solo le sue rubine esatto penso che sia più o meno così ciao lorenzo ciao lorenzo aspetta che mi devo mi ingrandisco la chat perché voi la leggete magari bene spero ma io no ok eccoci qua stiamo parlando di jensen wang il patron il CEO di nvidia che ha detto non imparate a programmare bambini perché in futuro non vi servirà programmare le macchine potrete pagare direttamente me me nvidia per programmare per voi questo mi sembra un po il discorso di jensen wang quindi bassa ruota all'agricoltura dicevamo quindi il solo linguaggio che le persone dovranno imparare è quello che serve a parlare mi sembra anche un ottimo ottima considerazione comunque le persone devono capire come e quando applicare la programmazione ai immagino insomma il prompt insomma e quindi è vitale che facciamo upskill facciamo tutti upskill e il processo di upskill sarà delizioso sorprendentemente delizioso va bene upskill intende che impariamo a dare dei prompt migliori dei prompt migliori alle ai ok quindi con attenzione c'è un analista patrick moorhead ha detto per più di 30 ha detto per più di 30 anni ho sentito dire che questa cosa ucciderà il coding ma non abbiamo ancora abbastanza programmatori che è vero cioè siamo ancora in no c'è molta più domanda che offerta di programmatori specialmente in italia peraltro quindi tutto quello che si diceva questa roba ucciderà il coding e con questa roba intendo cms wordpress low code no code tutta roba che avrebbe dovuto uccidere la programmazione in realtà siamo ancora qua c'è sempre più bisogno di programmatori per adesso questa roba non è successa con le ai cambierà non lo so esatto giuseppe upskill finché non facciamo il giro e andiamo a zappare esattamente il cerchio sarà questo saremo talmente upskillati da fare il giro e diventare agricoltori posto che tra l'altro essere agricoltori essere programmatori sia una cosa in continuità tra l'altro fun fact nel talk che farò venerdì a open source day citerò anche l'agricoltura in un easter egg che ho messo vabbè se ci sarete lo vedrete ma ve l'ho già detto anche in altri talk vabbè comunque morehead ha fatto l'elenco di vabbè è quello che ho detto io morehead ha anche tracciato un parallelo con la oddio non so cosa sia computer dtp qualcuno mi spiega cos'è computer dtp? io non lo so sarà sicuramente faccio brutta figura non so che cos'è ha detto che aspetta io non so zappare me lo può insegnare un AI creando un video che mi mostra come si zappa no non lo può fare perché se zappare è considerata un'attività rischiosa perché maneggi una vanga allora non te lo insegna c'ha dei blocchi Elia dice non so utilizzare l'AI al meglio me lo può insegnare l'AI credo di sì per esempio tu potresti chiedere e lo faccio ogni tanto tu puoi chiedere a un LLM di dirti come scrivere un prompt per un altro LLM che genera per esempio immagini al meglio e funziona cioè te li scrive bene quindi AI che ma d'altra parte le AI possono scrivere codice quindi possono anche scrivere altre AI abbiamo arriveremo all'AI all'AI definitiva che scrive se stessa che dici Lorenz? comunque sia Gemini che Cloud3 stanno già dando segnali di riuscire a scrivere codice decente ma tanto finché girano finché le banche girano su COBOL esatto Wikimedia dice questo desktop publishing DTP is the creation of documents using dedicated software on a personal computer ah ok ah lo dice nella frase dopo? vabbè non potevi dirlo prima ah desktop publishing ok vabbè potevi dirmelo prima e non facevi maledetto questi articoli non sono scritti bene ok quindi desktop publishing ah su Cloud3 tra l'altro vabbè non ne parlerò settimana prossima ho visto anche il video di Tizio di Fireship su Cloud3 molto figo Cloud3 pare molto figo il desktop publishing non ha ucciso la creatività su questo tra l'altro si potrebbe si potrebbe arguire ma quindi sono d'accordo che il desktop publishing e altri tool di digital art ok non abbiano ucciso la creatività non ricordo nessun suggerire che evolversi dagli scalpelli spray mount un'altra cosa che non non so e quindi dal disegno fatto su carta al desktop publishing avrebbe insomma distrutto la creatività vabbè ma sta sta sostenendo cose un po' diverse però qui non c'è non ci sono tool automatici no e lì a cosa dici lo sketch dei due kebabari che parlano al telefono insieme senza saperlo non lo sono perso non lo sono perso Tudor ciao Edo ciao ciao Tudor ho fatto tardi sì 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 vabbè infatti fra un po' devo chiudere perché poi mi viene fame mi viene fame quindi l'impatto delle AI nel job market freelance il tempo ci dirà qual è l'impatto delle applicazioni di AI sul mercato beh il tempo in realtà ce l'ha già detto perché molti dei lay off che abbiamo visto nella industry in questi mesi sono dovuti al fatto che c'è una shift verso l'AI magari interna no? c'è certe cose come Evernote ho visto o anche altre app che dicono vabbè ma grossa parte di questa roba che adesso anche ecco l'advertising in Google per esempio grossa parte della creazione manuale di advertising fatta sulla base di analisi di mercato analisi del cliente eccetera eccetera adesso la possiamo fare con l'AI e quindi tutto il team che era lì a farlo non serve più quindi o lo lay offiamo o lo spostiamo a fare altro quindi questa roba sta già avvenendo che poi impatti su chi invece si pone come freelance sul mercato quindi come sviluppatore e quindi dice io sono sviluppatore di boh WordPress ma per esempio Wix non lo vado a cercare però adesso Wix offre un tool per creare siti in AI direttamente tu vai su Wix ti crei il tuo sito Wix AI te lo dà pronto questa cosa qua sottrae il lavoro a un freelance che ti poteva creare lo stesso sito in WordPress o col CMS di Wix sì però quelle skill lì sono skill di alto livello se stiamo parlando di rimpiazzare quel tipo di skill magari in realtà l'upskilling in quel senso serve per dire alle persone che si sono limitate ai siti WordPress di quel livello lì di magari fare un po' di upskill no? cioè andare a posizionarsi un pochino più in alto se vi interessa essere programmatori magari potete andare un pochino più in alto e proporre skill nuove dice Zuppi con le AI generative il mondo sarà ancora più digitale serviranno più coder esatto è lo stesso discorso che si fa che faccio che ho sentito fare con i taxi cioè se noi riempiamo i tassisti i tassisti si oppongono all'arrivo di macchina guida autonoma Uber e altri servizi di questo tipo perché tolgono lavoro ai tassisti ma questa è una grossa cazzata perché se tu riempi le città di auto a guida autonoma auto a noleggio Uber e altri tipi di servizi che mi permettono di non comprare un'auto o di lasciare la mia auto in garage io sarò sempre più disposto appunto a fare a meno dell'auto privata e quindi anche i tassisti che mi danno un servizio che sostituisce l'auto privata ci guadagneranno il discorso è lo stesso l'AI creerà una società che è sempre più digitale e avrà sempre bisogno avrà sempre più bisogno di programmatori quindi di programmatori ci sarà più bisogno non meno bisogno se mettiamo la programmazione ovunque avremo più bisogno di programmatori non meno insomma io la penso così Lorenzo anche sul mercato creatività pura l'AI sta già facendo parecchi danni diversi team adesso fanno per production usando tantissimi tool come i meggiorni ma certo ma pure io faccio alcune alcune elaborazioni di immagini per il blog magari le faccio con i meggiorni ma prima le avrei fatte comprandole da istock photo o magari non facendole o magari andando su creative commons non è che ho tolto il lavoro non credo di aver tolto il lavoro a qualcuno ho semplicemente cambiato skill magari non mi serve più il designer grafico ma mi serve qualcuno che sape usare l'AI un programmatore ci ho cambiato skill però comunque ho fatto sì che ci sia più richiesta di digital art quindi digital artist secondo me un pochino si guadagnano globalmente magari qualcuno perde il lavoro però il movimento globalmente viene incentivato Tudor dipende da che skill si richiedono ai freelance a prescindere dal mero utilizzo di uno strumento particolare anche qui dipende anche la zona geografica ma certamente ma certamente sì servono meno artisti umani ma che i programmatori non serviranno più a nessuno rimane un'idea molto estrema poco realistica ma sì ma è così cioè tu tu crei un mondo dove c'è sempre più roba digitale è chiaro che tutti quelli che sanno usare quella roba o programmare quella roba hanno beneficio non cioè non stiamo stiamo togliendo il lavoro a un livello di skill che il lavoro l'avrebbe perso comunque diciamoci la verità per come sta evolvendo il mercato informatico il web cioè chi ha e mantiene le skill basse a un certo punto il lavoro lo perderebbe comunque se rimane lì se non fa appunto quell'app skill di cui si parlava quindi sì magari le AI accelera questo processo però l'avrebbero accelerato anche altre cose anche il low code il no code wordpress l'avrebbero accelerato comunque cos'è che poi ha detto quindi qua un recente studio dice che i freelance che fanno scrittura di testi e traduzioni per esempio le traduzioni sono una cosa abbastanza ma perché le traduzioni sono automatizzabili facilmente le traduzioni ma quello che non è allora anche qui le traduzioni sono un task facilmente automatizzabile sì ma se tu devi tradurre per un contesto particolare tu hai bisogno di qualcuno che studi quel contesto e che ti dia un prodotto di qualità se tu prendi un film giapponese e fai il doppiaggio con le AI te lo fai tradurre delle AI ti viene una merda perché stai traducendo letteralmente quello che esce da quella roba e non lo puoi adattare al mercato di genere cioè la parte di localizzazione comunque non ce l'hai stessa cosa se tu prendi un messaggio scritto in un'altra lingua adattato magari bene in quel contesto e lo traduci letteralmente per il tuo contesto che poi è diverso e non funziona no? chi è che mi scrive? vabbè non funziona scusate non funziona non funziona così devi comunque avere qualcuno che capisce il contesto che lo adatta che te lo porta proprio a quello che serve a te e qua le skill umane sono fondamentali le skill di comunicazione soprattutto compressione del contesto eccetera eccetera ma sì dici bene anche te Tudor lei è sottostanti vabbè gli elettricisti ma certo tutti quelli che fanno un lavoro di precisione meccanica anche lì con con l'avanzamento tecnologico l'AI e tutto quanto magari c'è meno bisogno ma però in realtà c'è più bisogno di qualcuno che sappia usare quella roba cioè stiamo soltanto stiamo soltanto cambiando skill non stiamo cancellando dei lavori questo è quello che voglio dire no? cioè secondo me stiamo cambiando skill è come dire che quando è arrivato il cloud abbiamo tolto il lavoro a quelli che facevano hosting è stato così? sì è stato così nel senso che molte di quelli che facevano hosting magari hanno dovuto chiudere però è un'evoluzione continua non è che possiamo dire fermiamo tutto allora com'è la situazione attuale? così bene freeze tutti fermi per 50 anni così tutti nessuno perde lavoro perché la situazione rimane immutabile da qua a 50 anni nessuno perde lavoro si può mica ragionare così no? tutte le cose tutte le cose procedono e hanno hanno un'evoluzione sarà un'evoluzione sì sì sì